Senta, per quanto riguarda le proteste che adesso stanno lanciando per lo stop a reddito di Nassa, la maggioranza dice che è tutto pretestuoso, si sapeva che questo reddito a un certo punto sarebbe venuto meno, però rimarranno tante famiglie senza un sostegno almeno fino al 1 gennaio. Io dico che sono pretestuose le polemiche politiche, sono da rispettare le proteste degli interessati, dopodiché per noi è semplice spiegare che si sapeva da tempo e io sostengo che la misura del reddito di cittadinanza andava superata come è stato fatto, però bisogna mettersi a lavorare per dare ai comuni gli strumenti per andare incontro alle esigenze delle persone che ne hanno bisogno, perché in tutta quella massa di persone che sono numeri, dopo ci sono le vite delle persone e lì dentro c'è anche persone che hanno 30 anni, che non possono lavorare pur non essendo in una situazione specificata. I casi specifici vanno affrontati dai servizi sociali dei comuni, a cui non si possono lasciare da soli naturalmente. Ma questa commissione di inchiesta di cui sta parlando il centro-destra, a voi siete d'accordo a sostenermi? Guardi, io non sono d'accordo per due motivi. Primo perché non sarei mai d'accordo a fare una commissione di inchiesta contro il presidente dell'Inps dell'epoca a chiunque esso sia. Secondo, non sarei d'accordo a fare una commissione di inchiesta su un problema che se c'è viene affrontato con gli strumenti parlamentari che ci sono. Come ci possono essere vari strumenti, anche un'indagine conoscitiva o un'audizione del presidente dell'Inps, un lavoro del Ministero. È chiaro che la gestione del reddito di cittadinanza non ha lasciato pochi problemi, ma è evidente che adesso voler fare un caso politico di questo non è utile a nessuno, soprattutto non è utile a chi adesso deve risolvere i problemi che comunque ci sono di un passaggio dal reddito di cittadinanza a qualche cos'altro. Se lo può descrivere come si vuole, ma ci sono persone che vanno aiutate e sostenute.